Bene, questo pilastro, cioè se la tua azienda è un'azienda ROS o un'azienda TOCI, è il pilastro che si occupa dell'equilibrio economico dell'azienda, quindi come dico spesso non c'è un pilastro più importante degli altri, tutti sono importanti, ma questo è quello che è più eclatante perché è quello che si manifesta proprio dal vivo, nel senso che ti fa vedere se c'è effettivamente la possibilità di guadagnare o c'è la possibilità di perdere, altri pilastri sono a livello più inconscio, più recondito, invece questo si manifesta a prima vista mentre si guardano i numeri. Allora, l'azienda è governata dal punto di vista economico da un indice che è il ROI, Return of Investment, è l'acronimo in inglese, il ROI è uno dei tre indici dell'analisi di bilancio che compongono il triangolo DuPont insieme al ROI e insieme al tasso di incidenza della gestione estracaratteristica e insieme al rapporto di indebitamento. Questi quattro indici formano il triangolo DuPont dal nome dell'azienda che l'ha inventato. Allora, il ROI è il rapporto fra il reddito operativo e il capitale investito, intanto il reddito operativo è il reddito della gestione caratteristica, cioè di quelle azioni che si perpetuano con regolarità, cioè le componenti economiche, ricavi e costi della gestione operativa, della gestione caratteristica sono tipici. Ce l'hai quest'anno, ce l'hai il prossimo anno, ce l'hai sempre, sono una caratteristica. E i costi sono i costi delle attività tipiche, caratteristiche di acquisto, produzione, amministrazione e vendita. Quindi capisci che per assurdo dovessimo avere situazioni in cui il reddito operativo è positivo e c'è una perdita di esercizio perché sotto al reddito operativo ad esempio c'è una minusvalenza, chiaramente la situazione economica dell'azienda è una situazione positiva perché il prossimo anno la minusvalenza non ci sarà, il reddito operativo siccome è tipico, siccome è caratteristico, siccome sta nel DNA dell'azienda si ripeterà per cui noi torneremo inutile. Il denominatore del rapporto è il capitale investito, cioè è tutte le attività, tutti gli impieghi dell'azienda, quindi i crediti, quindi l'attivo immobilizzato, quindi impianti, macchinari, terreni, fabbricati eccetera, il magazzino, insomma tutte le componenti dell'attivo patrimoniale, ovviamente rettificato dai fondi, quindi se ci fossero fondi di svalutazione o fondi di mortamenti l'attivo è al netto. Quindi ci dice questo indice che per ogni 100 euro investiti in azienda io ho un reddito operativo di supponiamo di 10, significa che è un ROI del 10%, cioè metto 100% di attivo in azienda e ottengo 10% di ROI, ne aggiungo 10% il prossimo anno e ottengo 11% perché 100% più 10% fa 100% ok. Ora il ROI dipende da due fatti, da due altri indici, dal ROS e dal TOCI. Il ROS è Return on Sales, cioè la redditività delle vendite, il reddito operativo fratto le vendite, il reddito operativo è lo stesso nel senso che il reddito della gestione è caratteristica, le vendite sono i ricavi. Se noi moltiplichiamo il ROS per il TOCI, che è il turnover del capitale investito, e sono le vendite fratto il capitale investito, il capitale investito è lo stesso di questo rapporto, infatti se noi li moltiplichiamo tra di loro e semplifichiamo, il ROS moltiplicato TOCI ci dà il ROI. Quindi il ROI dipende dal ROS e dal TOCI. ROI e ROS sono in percentuale, il TOCI è il numero di volte, cioè il TOCI ci dice quante volte attraverso le vendite il capitale investito, un'azienda ritorna liquido. Quindi se io voglio spingere la redditività aziendale o spingo sul ROS o sul TOCI. Ecco perché è importante sapere se l'altra azienda è un'azienda ROS o un'azienda TOCI, perché se è un'azienda ROS ha delle sue peculiarità, se è un'azienda TOCI ha delle altre peculiarità. Quindi se tu vuoi spingere il reddito operativo e quindi il ROI sai che devi fare delle cose diverse. Le aziende ROS, siccome il ROS aumenta, se noi riusciamo ad aumentare il reddito operativo a parità di vendite, quindi devo guadagnare di più a parità di vendite, quindi che cosa posso fare? Posso aumentare i prezzi e mi diminuiscono le quantità, ma aumenta il margine, oppure posso ridurre i costi. Quindi è un'azienda che è caratterizzata da poche vendite ad alto valore aggiunto. Quindi ad esempio la Ferrari è un'azienda ROS, vendo poco, ma per ogni unità venduta guadagno molto il reddito operativo. Se questa è un'azienda ROS, l'azienda TOCI è il contrario. L'azienda TOCI, il TOCI aumenta se aumentano le vendite a parità di capitale investito. Quindi devo avere poco capitale investito in azienda, quindi poche immobilizzazioni, pochi crediti, e devo cercare di far girare velocemente le vendite. Ad esempio i supermercati, i negozi, sono aziende di tipo TOCI, quindi aumento le vendite, magari abbasso il prezzo, quindi guadagno di meno e quindi perdo in termini di ROS, però aumento il numero delle vendite e quindi invece di guadagnare per esempio 10 su una vendita, guadagno 8 su 3 vendite. Invece di avere 10 di reddito operativo ho 24, ok? Quindi la tua azienda è un'azienda TOCI, quindi poco margine, molte vendite, o è un'azienda ROS molto margine, poche vendite? Questo che vi ho detto si ripercuote nel grafico del breakeven point. Il grafico del breakeven point, in questo caso di un'azienda ROS, è caratterizzata da costi fissi molto alti, perché generalmente le aziende ROS hanno molti impianti, molti macchinari, investono in ricerca, quindi hanno un livello di breakeven caratterizzato dalla presenza di tanti costi fissi. Questa è la curva dei costi variabili, se adesso noi prendiamo la curva dei costi variabili e la sommiamo a quella dei costi totali, scusi, scusate, a quella dei costi fissi, troviamo la curva dei costi totali. Incrociamo con la curva dei ricavi, laddove i ricavi eguagliano i costi totali, abbiamo la quantità di equilibrio, cioè il fatturato, la quantità da produrre, o il fatturato da avere per avere ricavi uguali ai costi totali. Che cosa accade nelle aziende ROS? Che basta spostare di poco il fatturato o la quantità prodotta, per avere, questa è l'area di utile, per avere un grande utile rispetto allo zero, quindi basta che mi sposto di poco e io ho tanto utile, ma attenzione, basta che si contraggono di poco le vendite e io mi ritrovo con una grande perdita. Quindi è un'azienda che dà grandi soddisfazioni, ma attenzione, è molto più rischiosa perché dei piccoli spostamenti della quantità o del fatturato di equilibrio mi determinano dei grandi spostamenti a livello di reddito di esercizio. Questo invece è il brecchive di un'azienda toci. Vedete, i costi fissi sono molto più bassi rispetto a quelli di un'azienda ROS e il punto di equilibrio è fatto in maniera tale che per avere un grosso utile, un grosso aumento di utile dallo zero, mi necessita un grande spostamento dal punto di equilibrio del fatturato. Quindi io per guadagnare di più devo vendere e fatturare molto di più. È altrettanto vero che per perdere tanto devo diminuire di molto le quantità. Quindi è un'azienda che dà poche soddisfazioni, ma è anche meno rischiosa. Ora, l'eterno dilemma è meglio un'azienda ROS o meglio un'azienda toci? Ecco, dipende dal grado di rischio, dalla propensione di rischio di ognuno di noi, però secondo me non si può fare impresa senza conoscere se la tua azienda è ROS o la tua azienda è toci.